I ragazzi del coordinamento 9 dicembre, il fulcro, quelli che hanno portato avanti l'anno scorso le proteste, adesso stanno ricominciando. Domenica avete avuto una riunione a Bologna, come è andata la riunione e cosa è uscito fuori da questa riunione? La riunione di Bologna possiamo dire che è uscita abbastanza bene perché finalmente abbiamo ottenuto di nuovo dopo un anno una unità di intenti, giustamente la riunione c'erano tanti movimenti, all'inizio c'è stato un po' come al solito alcune discussioni, ognuno aveva delle posizioni, alla fine è stata una cosa bellissima che si è decisa la data e si è decisa in maniera unanime, adattata di mano a me questo mi ha colpito molto perché mi ha dato una grande forza vedere un gruppo di persone, eravamo 150, tutti con lo stesso obiettivo. E' uscita fuori la data perché ormai non possiamo più fare finta di niente, la situazione è molto grave, rispetto all'anno scorso è molto peggiorata, ci sono gli sbarchi continui, si è saputo che Amalta ha allontanato un barcone dove c'erano persone che erano infette di Ebola e c'è il rischio che le portano qua, la crisi si sente molto, dobbiamo capire che stiamo arrivando a un punto che ci stanno portando alla fame, ci stanno portando alla povertà e rischiamo pure un'epidemia grossa, quindi dobbiamo capire per le nostre famiglie che questo sistema che ci sta governando per ora ci sta portando alla distruzione, è ora che le persone capiscono che è ora di muoverci, di sbaziarci e di fare delle azioni. Noi abbiamo deciso in tutta Italia, da Pordenone in Sicilia, il 13 di fermarci e cominciamo a fare degli attivismi, ora che noi cominciamo a fare anche nella città di Mazzara del Valle a tutti i negozianti, a tutte le attività, cominciamo a essere partecipi, io organizzerò degli incontri per confrontarci, per decidere come muoverci il 13. Una cosa importante è che domenica a Castelvetrano, all'uscita dell'autostrada al bar Sosta A29, ci sarà una riunione provinciale dove verranno alle 5 la riunione, verranno gruppi di persone, di cittadini liberi, di lavoratori, di disoccupati per parlare come muoverci in sicurezza, ci saranno pure città vicine come Sciacca, a Menfi che saranno partecipi, poi la cosa si allargerà con incontri che farò a Palermo, che faremo a Catania, è importante che veramente ci muoviamo. Domenica a Castelvetrano aspetto anche studenti, mi hanno chiamato finalmente dopo un anno che il 9 dicembre non era successo niente a Marsala, Marsala si stanno svegliando, mi hanno contattato delle ragazze, Santa Niva e Paesotti, quindi dobbiamo tutti unirci e fare veramente una protesta seria. Ci sono dei progetti importanti, non è soltanto fermarci e fare la protesta e andare a casa, ci sono le assemblee costituenti, ci sono dei progetti, ci sono le leggi, la Costituzione italiana è stata calpestata da chi si sta governando, ci sono le leggi importanti e non vengono più rispettate, quindi cominciamo veramente a muoverci. Perfetto, quindi domenica ci si riunisce tutta la provincia a Castelvetrano alle ore 5, intanto è stata decisa la data per lo sciopero generale in tutta Italia, il 13 ottobre ricomincerà quindi la stagione degli scioperi in tutta Italia.